Musica Estivale 2014 siamo insieme a Manu Theron, un leader dei Cor della Plana, che questa sera canterà qui insieme a noi, canterà su questo grande palco in centro alla città di Rodès. Intanto ti vogliamo chiedere a che punto è la data di questa sera all'interno del vostro grande tour. Sappiamo che avete girato moltissimo, siete stati anche in Cina, ti chiediamo di raccontarcelo come sta andando e anche come continuerà. Grazie, allora una data all'estivale è sempre una data un po' speciale perché ci aspetta molta gente che ci conosce, che normalmente quando giriamo, anche quando giriamo il mondo, la gente non ci aspetta e non ci conosce. e non ci conosce, quindi la cosa che mi piace qua è che la gente ci conosce, conosce pure i pezzi, le canzoni, eccetera. Quindi per noi è sempre una gioia di suonare qua, soprattutto che l'anno scorso c'è stato questo temporale enorme, questo ciclonio che ci ha impedito di suonare qua. eravamo rimasti su una grande frustrazione, quindi siamo contenti di essere tornati qua. E per dirti, siamo in mezzo a una tournée che veniamo dal nostro paese, da Martig, che è vicino a Marsiglia, e andiamo in Repubblica Ceca, dove eravamo la settimana scorsa già con un gruppo napolitano che si chiama Sourd, un gruppo di quattro donne che cantano e che fanno percussioni. Quindi stiamo girando così. Poi a fine luglio ci fermiamo un pochino e poi dobbiamo fare un nuovo disco, quindi dobbiamo trovare tempo per non fare tutte queste cazzate del giro di continuo, delle feste di continuo, di bere, di incontrare nuova gente. A noi ci piace pure incontrare gente come voi, per esempio, che è un'eccezione, gente così simpatica, che parla pure con l'aere moscia in italiano, a me mi piace, parla l'italiano con l'aere francese, questo è bello. Allora, no, niente, sono contento pure di fare questo... Cioè, a un momento uno si deve fermare e pensarci un po' a quello che va a fare dopo, e siamo, appunto, arrivati a questo momento. Com'è accolta la musica che voi portate avanti? Per alcuni aspetti è anche musica tradizionale che ha alle spalle una grande ricerca, anche filologica e che comunque è in lingua occitana, nei luoghi dove la musica occitana non esiste per niente. Penso alla Cina o penso anche all'est dell'Europa. Ma, per dirti la verità, che fossi un'America, in Cina, in America del Sud, non si fregava la gente per niente del fatto che cantiamo in un'altra lingua. Cioè, soltanto in Francia che la gente lo nota e che te lo fa, come dire, sentire come un tipo di culpabilità. Perché non canti in francese? Perché canti una lingua francese che nessuno conosce o può capire. A noi ci interessa questo fatto che in Francia c'è un'impostazione un po' neurotica rispetto alla lingua e rispetto al fatto linguistico. Questo non esiste da per tutto. Se vai in Cina c'hanno 1500 dialetti, se vai in Italia non mi ricordo quanti sono. Ovunque vai c'è sempre una grande varietà di linguaggi, di parlate, di dialetti, di lingue che alla gente non sorprende se c'è un'altra lingua che viene cantata, un'altra che la lingua del paese o l'inglese, perché l'inglese è la lingua che viene più cantata. Però la gente che ci fa a volte notare che non cantiamo in francese è gente che sente musica inglese senza neppure capire. Quindi pensiamo noi che il pubblico francese si merita di sentire delle cose diverse, come tutti gli altri pubblici, no? E poi all'estero noi abbiamo notato che alla gente gli interessa soprattutto la musica. E come dire, la composizione musicale è perché voce e percussione, come suona assieme e come è fatta la composizione, eccetera. Tutto quello è una cosa che a loro piace di sapere perché tutti quanti, in molti paesi, non soltanto del Mediterraneo, ci sono le tradizioni con percussioni e voci. Ce ne sono in Giappone, ce ne sono in Cina, ce ne sono in Sud America, ce ne sono attorno al Mediterraneo. Quindi alla gente gli interessa sapere come fanno gli altri per gestire sto binomio, come si chiama, binomio, voci e percussioni. E noi, con la nostra proposta, che è una proposta del 2014, con la nostra cultura musicale che non è soltanto occitana, è pure americana, è pure mediterranea, è pure eccetera. Quindi proponiamo noi una musica che agli altri fa pensare alla propria musica del paese. E quello è interessante. E dopo la gente ci viene sempre a trovare, dopo i concerti, per dirci ma guardate, noi pure già abbiamo questa musica con la polifonica. Per esempio a Taiwan, cioè a Taiwan c'è una tradizione di canti polifonici enorme, pure in Giappone, dai aborigeni del Giappone che si chiamano Ainu, c'è pure questa tradizione bellissima di canti polifonici assieme alle percussioni. Quindi ovunque andiamo ci sentiamo a casa con gente che è molto interessata e che può provare di paragonare il proprio materiale tradizionale con quello che proponiamo noi. Soltanto il nostro non è tradizionale a 100%, il nostro è tradizionale a 50% e tutto il resto sono delle composizioni, delle invenzioni per la maggior parte. Allora, per tornare a questo palco di cui parlavamo all'inizio, su questo palco abbiamo visto davvero molti generi diversi, molti tipi di musica diversa. È vero però che sono accumunati dal fatto di essere la maggior parte musica occitana. Secondo te però che cosa caratterizza la musica occitana? Cioè, che cos'è la musica occitana secondo te? Allora, io ti farei un'altra domanda in risposta. Che cosa caratterizza la musica italiana secondo te? Cioè, quando dici musica italiana di che stai parlando? Di musica tradizionale? Cioè, per la musica tradizionale si sa che in Italia, dal Piemonte a Sicilia, c'è un'impostazione del canto che è diversa da quella che c'è in Austria o in Francia. Ma per il resto, tutta la musica italiana è completamente, come dire, tanta, diversa, che non si può trovare un estratto di una cosa che sarebbe musica italiana. In Italia c'è rap, c'è ragamuffin, c'è musica classica, c'è musica contemporanea. Quindi è un po' uno scopo interessante qua che fanno di resumere, come si dice resumere? Di riassumere una cultura, soltanto un palco, due palchi, e di dire tutta la cultura nostra si può presentare lì. Immaginate un posto dove dicono che fanno musica italiana e che vengono tutti i gruppi hard rock, le bande, dove vengono la gente che fa musica classica, eccetera, eccetera. Non si può fare, cioè non si può dire che cos'è la musica italiana. C'è tanti vari gruppi di musica, tante varie esperienze musicali diverse, che non si può capire bene che cosa sia veramente la musica italiana. Penso sia lo stesso per la musica occitana. Poi è vero che noi siamo così pochi che ci conosciamo tutti, anche quelli che fanno la classica, quelli che fanno... li conosciamo tutti, ci conosciamo tutti tra di noi. E anzi, capita che lavoriamo pure tra di noi senza essere della stessa estetica. A quello a me mi piace. Per esempio, se hai dei gruppi di musica occitana come Moresque Fracadub, che fanno rap occitano, e mi chiedono a partecipare sul disco. Poi c'è, come si chiamava, un tipo Gebaletti, conosci Gebaletti, che fa musica brasiliano-occitano. Pure lui mi invita a fare qualcosa sul suo disco. Io ci vado, e ogni volta incontro gente diversa, da ambienti musicali diversi, che propongono, però il fatto che cantiamo, e che io cantino occitano, a loro l'interessa per metterlo sulle composizioni loro. Quindi c'è, visto che l'ambiente è più piccolo, la gente si incontra molto di più. E la gente è molto più interessata in quel che fanno gli altri, che nella musica francese. Per esempio, se vai a un concerto di rap francese, non ci sarà mai un jazzman. Se vai a un concerto di musica classica, non ci sarà mai un rappista. Capisci? Il fatto che la musica occitana sia così piccola, la cosa positiva è che la gente si incontra. E la gente che viene da tutti i orizzonti musicali, tutti i orizzonti artistici, ha voglia di incontrarsi per vedere con l'occitano che c'è da fare insieme. A proposito dei gruppi, in parte ne hai citati, nel vasto orizzonte di gruppi che fanno questo tipo di musica, o questi tipi di musica, chi vorresti vedere sul palco dell'estivale? A me mi piacerebbe vedere la famiglia Arcius, perché è un gruppo che fa hardcore, veramente bello, e che non passa su quel palco da dieci anni. e poi tutti i soci della famiglia Baudouin che vengono dalle parti di Pau e del sud-ovest dell'Occitania fanno veramente un bel lavoro perché stanno inventando sia una musica che degli strumenti nuovi, delle cose completamente nuove. A me mi piacerebbe vederli sul palco e soprattutto vederli mostrare, dimostrare la creatività di quella musica e la creatività dei musici che ci lavorano da vent'anni, da trent'anni, eccetera. E il fatto che è una cosa seria, cioè non è una cosa da amatori che una volta a settimana vanno a fare musica folcloristica, che pure a me questo piace, però quando si parla di musica, di mestiere di musicante, si deve parlare del fatto che alcuni di noi hanno veramente dato la vita e, come dire, consacrato la vita loro a fare soltanto questa musica, rischiando di suonare sempre negli stessi posti, sempre per la stessa gente e questo è un rischio maggiore che prendono questi artisti, che a me piace, che vuol dire che secondo me la musica che fanno è sicuramente, come dire, una cosa che c'hanno dentro di loro, che veramente vogliono esprimere. All'inaugurazione dell'estivada di quest'anno abbiamo assistito, così come le persone che erano presenti, alla protesta dei precari dello spettacolo. Che cosa stanno vivendo e qual è il problema, anche visto da chi è all'interno del mondo dello spettacolo? Allora, si deve un po' descrivere la situazione attuale. c'è uno statuto generale per tutti i disoccupati francesi. Hanno fatto nuove riforme nelle quali viene proposto di aggiungere delle cose, aggiungere, come dire, delle responsabilità ai lavoratori e togliere altre responsabilità ai padroni, a quelli che impiegano. Quindi, nostra responsabilità come lavoratori dello spettacolo ormai sarà di lavorare di più per meno soldi per quelli che hanno il più basso income, come si chiama, il più reddito. E per gli altri come me che hanno un reddito medio, un reddito alto, loro lavoreranno di meglio toccando di più, prendendo di più. C'è questa cosa ingiusta che vogliamo noi un po' contestare della quale vogliamo dire che pure non è stata pensata bene perché non tocca soltanto noi ma pure tutti gli altri lavoratori temporari, i lavoratori, come si dice, precari che lavorano forse 120 ore in quattro mesi, eccetera, tutti questi lavoratori perché avevamo dei dritti di seguita, cioè se lavoravi sei mesi poi prendevi per sei mesi la disoccupazione, ma se lavori quattro mesi devi trovare un altro lavoro qualsiasi, neanche se fosse il tuo, un altro lavoro per ricaricare i tuoi dritti come devi ricaricare un telefono, capisci? Per ricaricare i tuoi dritti per avere queste 600 ore che ti permetteranno di ricevere la disoccupazione, le indemnità di disoccupazione. Questa è una vergogna perché la maggior parte di questa gente non può permettersi di lavorare in quel modo. e poi loro adesso avranno il dritto, la gente delle case disoccupati, loro che sono statali in Francia, avranno il dritto di mandarti ovunque vuoi. Quindi dovrai lasciare i bambini, lasciare la famiglia per andare a 300 chilometri a lavorare. E questo, se non lo fai, finisce la disoccupazione, finiscono le indemnità. Quindi tutto questo sistema sta a riformarlo con l'organizzazione francese dei padroni, che è un'organizzazione grossa e che ormai vuole gestire il diritto, la legislazione del lavoro. Tutta questa legislazione dagli anni 1910 si è costruita contro di loro perché loro sono dei sfruttatori alla base, sono dei sfruttatori e quindi loro ormai credono che possono imporre alla gente la loro legge e per quello combattiamo e per quello c'è... e noi lavoratori dello spettacolo abbiamo preso la decisione di essere solidari di tutti quegli altri lavoratori eppure di presentare nel nostro caso speciale, nel nostro caso specifico, tutte le rivendicazioni che abbiamo rispetto alle condizioni di lavoro come alle condizioni di pagamento. e quindi non accettiamo questo cambiamento che è stato pensato dai padroni e ordinato e organizzato dai socialisti francesi. Siamo verso la chiusura di questa intervista che tocca punti diversi della realtà che si può vedere e vivere anche a questo festival. A settembre sarai a Pomaretto nelle valli del Pinerolese per una situazione che tu fuori intervista descrivevi interessante insomma un posto nuovo in cui parlare insomma vuoi dirci che cosa ti aspetti? Allora c'è la mamma di Dino Tron che mi invita a casa a mezzogiorno sto 27 settembre quindi la prima cosa che aspetto è quella dobbiamo dire la verità poi c'è il fatto che avrò occasione di incontrarmi con gente che non conosco soprattutto gente dell'università oppure di fuori l'università che lavora su sull'occitanità e sulla cosa che vuol dire attualmente un lavoro nello schermo di di una realtà di lingua minorizzata quindi è interessante per me è sempre interessante soprattutto perché la descrizione che ne fa l'università di quella situazione è sempre molto più fredda molto meno appassionata di quanto la nostra e a me questo piace perché mi calma l'università ha questo come dire privilegio di calmare ti calma e ti rilassa quindi soprattutto il sapere ti rilassa quindi sono molto impaziente di sentire tutto quello che si dirà e di andare dalla mamma di Dino pure di Dino di Dino Grazie a tutti.